Ehm, mettiamo le cinghie o...? Eh, aspetta, vediamo così. Comunque sì, vediamo che non so. Il tuo estandamento è più allenamento, perché... Sì. Comunque se avessi qualcuno come te così, sarebbe molto meglio anche per me. Sì, se il punto troppo mi sento, devo provare la collega. Ma trema. Ma trema tu, vero? Sì. Adesso sei andato solo indietro. Prova, rifacciamo e vai in là, in laterale. Sempre per un attimo. Sì. Olla. Vai. Vai, 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 ti torna un minuto. Cioè, dici una volta che mi prendi, poi... Esatto. Tu adesso, la cosa più difficile è aprire un impulso, perché io adesso di braccio sono più forte. Di conseguenza ti contengo, quindi dovresti riuscire a aprire. Sì. Vai. 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 Non senza scarti, eh, mi arrommando. Vai. Bravo. Continua, continua, no, così, così. Bravo, lì, 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 lì. Continua lì, 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 lì. Lì. Esatto. Cia. Cia, cazzoa, ma non c'è la bocca, ma non c'è la bocca. Bravo. Sempre sopra qua, chiuso lì, pronato, appena appena. perfetto stai qua, tieni sempre qua così questo è il tuo punto forte hai capito? più lo pieghi e più diventa potente ok e indietro là esatto vai bravo capito? bravo più un po' dritto adesso un po' dritto adesso vabbè vedete le noche esatto quella linea del pulso la linea del pulso deve essere su non così così è perfetto quindi anche qua ve l'ho chiuso perfetto tu adesso la tua forza adesso vabbè adesso devi stare lì sempre a cannone devi sentire questa forza qua senti qua che tira tira la mia mano senti lì dietro lì il punto forte vai senti lì bravo perfetto bravissimo lì 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 senti qua la forza delle cinghie perfetto non troppo in laterale più in là rifai? sì perché tu stai vuoto e stai in un lato qua vai 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 ora non troppo in basso con la cinghia qua più in alto bravo perfetto vai? bravissimo vai bravissimo vai la positica come lì to basta no non c'è che vuoto io ci vedo oh non c'è ma ma non c'è che vuoto non c'è son bello però vai vai ce lo sento che vai vai no no ma ci sei ci sei ci sei vai un aumento di quadrulli senza cuore spalarsi fa un bene per i muscoli vedi anche le dita anche a me con te che c'è tanta forza fanno questo se lei sono quelle compatte potrebbe sfruttare ancora più forza vai già la energia poi la piusiamo intanto il suo organismo vai Aspettiamo di spessi, sto da un'altra parte. Vediamo un po' sicuro. Vai. Cambia tanto, già se ti blocco di più la mano, cambia tutto. Un po' di tensione. Vai. Hai, ti parla da una sema adesso. Ma la voli per una sema la cupra. E' di flugio. Stai sui palmi, ma nulla o altro. But it's all I do, several shots of chasing the stars to falling through You talk about squirting when you're rocking your peeps All I care about now is